Buona giornata, ben ritrovati a Sette in Punto, la seconda parte del nostro approfondimento mattutino è diviso a sua volta in due parti come due, sono gli ospiti quest'oggi, cominciamo innanzitutto da Eliana Raburati che coadiuvata da Carlo Giolo che abbiamo ospite successivamente ha scritto la dieta dei mestieri, un libro, un manuale narrato, innanzitutto buongiorno a tutti. Ben trovata, l'occasione appunto di parlare di dieta e di lavoro insieme ma con un'ottica davvero particolare, non tanto ricette quanto invece cose. Sì, infatti non è un libro di ricette, non è nemmeno la nuova dieta alla moda, la soglia della prova costume. Si tratta di un libro che nasce dall'incontro professionale tra me e Carlo Giolo, io mi occupo di, scrivo quelli che ho denominato romanzi d'azienda, ossia storie ambientate nel mondo del lavoro, quindi conosco molto bene le dinamiche aziendali e Carlo si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è dietista. Da una mia passione anche sull'alimentazione che è nata circa 15 anni fa, per cui unendo tutto questo in un calderone nasce l'esigenza di fare questo libro. Un libro che ha chiesto 5 anni di lavoro. Sì, 5 anni di lavoro perché inizialmente siamo partiti facendo un'indagine in un'azienda, in un'azienda di circa mille dipendenti che ha sedi un po' in tutta Italia, un'indagine sulla percezione dei rischi da parte dei lavoratori, sulla loro percezione ed è lì che è emerso spontaneamente quello che noi abbiamo denominato rischio alimentazione, ossia la percezione da parte del lavoratore di non avere tempo a sufficienza per potersi alimentare nella maniera corretta, non avere una scelta sana e non avere un luogo adatto durante la pausa pranzo. Voi avete inserito 16 diverse figure professionali, all'incirca, che avete contemplato in qualche maniera e tutte queste 16 naturalmente hanno anche momenti diversi, dinamiche diverse di lavoro e così via. Come siete riusciti appunto a mettere insieme tutto questo? Ma allora lo studio sulle 16 tipologie di mestieri è partito dalla nostra esperienza, dall'esperienza nelle aziende per cui ogni volta che incontravamo una figura professionale noi facevamo un'intervista, cercavamo di raccogliere più materiale possibile su quale lavorare. Questo libro si basa su una folta bibliografia anche, bibliografia di riferimento che è stata molto difficile da selezionare perché al giorno d'oggi c'è tantissimo sull'alimentazione e la fonte va selezionata sulla base di alcuni criteri, noi ne abbiamo usati alcuni. Trovando poi però anche qualche traccia importante del vostro lavoro, non nel giorno d'oggi ma anche un po' in passato. Sì, infatti è stata una piacevole sorpresa scoprire quanto anche in passato alcune categorie di lavoratori avevano già fatto attenzione all'alimentazione, basti pensare per esempio ai soldati di Giulio Cesare che si portavano dietro un sacchettino di stoffa con dentro delle granaglie che durante la marcia, il calore del corpo, li faceva germogliare. Ecco, i germogli erano un ottimo snack che poteva permettere a loro di mantenere la forza per tante ore di camminata, di marcia. Altre piccole esperienze le abbiamo trovate per esempio nella letteratura che viene attribuita a Bernardino Ramazzini. Bernardino Ramazzini, noi diciamo che questa opera un po' si ispira a lui, lo vuole omaggiare in un qualche modo, lui è stato il padre fondatore della medicina del lavoro. arrivò a questa intuizione perché con l'osservazione appunto diretta dell'operato di alcuni dei ragazzi che venivano a svuotare la latrina dentro casa sua, lui si accorse innanzitutto che paticavano a fare questo lavoro, cercavano di svolgerlo in fretta e dopo qualche anno li vedeva per strada ciechi mentre chiedevano le lemosina. Per cui ha capito che questo lavoro in un qualche modo aveva compromesso il loro stato di salute. Parliamo di 300 anni fa, infatti quest'anno ricorre il tricentenario della pubblicazione delle sue opere migliori, della raccolta delle sue opere. Bernardino Ramazzini qualche volta consigliava anche qualche alimento per abbattere il rischio. Per esempio ai fabbri consigliava di aggiungere la bietola alla propria alimentazione perché per via di tutte le sostanze nocive che respiravano durante la lavorazione dei metalli avevano problemi di costipazione intestinale. Per cui attraverso l'uso massiccio e continuativo della bietola potevano mantenere il ventre molle. Quindi questa è l'occasione. Ovviamente avendo tanti mestieri all'interno c'è l'occasione anche in questo periodo in cui c'è anche la contaminazione dei lavori se vogliamo, quindi figure un po' intermedie di poter trovare comunque una figura all'interno che rispecchi la propria attività lavorativa. Sì, innanzitutto va letto in questo modo. Si deve leggere tutta la prima parte perché nella prima parte ci sono i principi generali per un'alimentazione sana ed equilibrata ed è impensabile che cambiando un unico ingrediente e aggiungendo un unico ingrediente su un'alimentazione equilibrata si possano ottenere in un qualche modo dei risultati. Quindi sistemata l'alimentazione con la prima parte del libro, nella seconda parte ci sono 16 mistieri che vengono trattati sulla base appunto dei rischi specifici. Durante la lettura si può fare una piccola valutazione dei rischi della propria, del proprio mestiere, della propria attività, un'autovalutazione dei rischi, esattamente. E così si può scoprire che nel momento in cui si è più in strada si corrono gli stessi rischi di un autotrasportatore oppure nel momento in cui si fa lavoro sedentario davanti al computer si corrono gli stessi rischi dell'impiegato. E così. Per analogia li troviamo praticamente tutti. Chi leggerà il libro troverà in qualche modo bannati alcuni alimenti oppure invece come li avete trattati? Stanzialmente questo è buono, questo è meno buono? Ma noi abbiamo cercato soprattutto di valorizzare gli alimenti, quelli che vengono chiamati cibi funzionali che possono avere caratteristiche che in un qualche modo aiutano ad abbattere ulteriormente questi rischi specifici. Per cui non abbiamo puntato il dito sugli alimenti ma abbiamo cercato di valorizzare, di porre su un piedistallo quelli che sono gli alimenti più sani che noi abbiamo a disposizione, tra l'altro anche seguendo le stagioni, seguendo la tipologia anche del proprio lavoro sulla base di un lavoro leggero, moderato, pesante. Sono tanti i parametri che abbiamo tenuto in considerazione. Leggendo il libro si può anche scoprire se il proprio lavoro ingrassa, c'è proprio un capitolo dedicato a questo e ci sono alcuni parametri che noi abbiamo individuato per poter comprendere se il proprio lavoro favorisce il sovrappeso. E' più il lavoro secondo quello che avete visto o più diciamo anche le condizioni, nel senso i tempi che non si possono sempre rispettare per un'alimentazione corretta, la qualità di aceti cibi che si trovano appunto nelle macchinette piuttosto che in alcuni distributori, quali possono essere appunto i principali? Ma secondo me è soprattutto un fatto culturale, si siamo abituati, noi abbiamo intervistato un operatore dell'edilizia, un lavoratore dell'edilizia che ci ha raccontato come una volta veniva vissuta la pausa pranzo in maniera completamente diversa, era un momento di aggregazione, era un momento in cui si faceva gruppo si rovesciavano due o tre cassette di legno, si metteva sopra una tovaglia e ognuno tirava fuori la sua gamella e quello che la moglie o la compagna o la nonna o la zia insomma o la sorella aveva preparato per il pranzo. Ecco da quel racconto lì ci siamo resi conto di quanto era cambiato proprio anche dal punto di vista culturale il momento della pausa pranzo. Adesso molti lavoratori vanno in trattoria e in trattoria la tentazione di mangiare un po' di più, di mangiare qualche cosa un po' anche più pesante, non particolarmente adatto per la pausa pranzo è sempre molto forte. Per cui è facilmente comprensibile che non puoi mangiare una lasagna e poi andare a rasare la parte esterna di un muro a 8 metri di altezza su un conteggio. No infatti è facilmente comprensibile questo, però al di là di tutto quello che è comprensibile e quel che non è intuibile è quali siano gli alimenti corretti e quegli alimenti funzionali che possono aiutare. Ecco noi abbiamo cercato di riunirli tutti insieme, inserirli nella seconda parte del libro ci sono anche parecchie tabelle al quale ci si può da consultare perché può servire per esempio sapere quali sono gli alimenti più ricchi di vitamina C, più ricchi di vitamina E abbiamo trattato un po' tutte le carenze delle vitamine anche quindi... Quindi c'è narrazione come si diceva prima per rendere più gentile il racconto stesso ma c'è comunque molti dati anche all'interno. In che proporzione? C'è narrazione perché io dalla narrazione non potrei in nessun modo staccarmi perché nasco come romanziera per cui non potrei scrivere qualche cosa di tecnico senza narrarlo e poi c'è molto di scientifico nel senso che comunque tutto quello che viene riportato ha una bibliografia di riferimento vasta e selezionata le cui fonti sono stati selezionati con un criterio severo, se vogliamo o comunque un criterio che ci ha permesso di tracciare un percorso in un qualche modo diciamo omogeneo, in modo che si potesse chiudere un cerchio perché si trovano anche sì voci fuori dal coro ma più o meno gli autori non dico che raccontano le stesse cose però sono concordi su tanti punti allora noi siamo andati a prendere tutti questi punti sui quali si trovano in accordo gli autori e poi abbiamo aggiunto qualcos'altro che ci pareva e ci sembrava particolarmente efficace efficace e indicato per lo studio che stavamo facendo mancano circa tre minuti alla fine della nostra chiacchierata capire innanzitutto non abbiamo detto qual è la casa editrice allora la casa editrice è altro mondo che ha creduto in questa nostra idea e ci ha supportati fin dall'inizio abbiamo due prefazioni una di Renata Mattiuzzo che è medico del lavoro di Padova e l'altra è di Romano De Marco che è scrittore responsabile safety qui due figure che comunque sono legate alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che hanno compreso questa nostra impresa questo nostro tentativo di aggiungere un ulteriore strumento che vada in un qualche modo ad aiutare i lavoratori a rimanere in salute infatti lo strumento noi lo abbiamo chiamato rischio alimentazione ecco che è un progetto vero e proprio sì infatti questo libro si colloca all'interno di un progetto che abbiamo chiamato rischio alimentazione che è un vero e proprio strumento di intervento nelle aziende di consulenza e di formazione specifica sull'alimentazione strettamente legata all'abbattimento dei rischi al mantenimento della salute nei luoghi di lavoro e alla produttività perché l'Agenzia Internazionale del Lavoro dichiara nel 2005 che il 20% della produttività viene persa a causa di una cattiva alimentazione in più abbiamo anche i dati INAIL che confermano quanto la maggior parte degli infortuni avvenga nelle ore post-prandiali per cui sommando tutti questi dati noi abbiamo sentito il dovere di intervenire All'inizio dell'ultima domanda vi pensavate che ci volessero 5 anni avevate posti un termine massimo per questa vostra ricerca o siete stati presi anche diciamo un po' la volta in mano che veniva su dati sempre più in penso interessanti Ma noi non pensavamo di scrivere un libro inizialmente anche perché io non avevo mai scritto libri che andassero che si allontanassero troppo dalla narrazione o dal romanzo e infatti inizialmente tutto il materiale che noi abbiamo raccolto lo abbiamo raccolto per i nostri seminari infatti facevamo già seminari nelle aziende durante alcuni appuntamenti importanti fieristici legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi è stato un caso che poi ci siamo ritrovati a scrivere il libro lo abbiamo scritto principalmente per noi perché ci serviva ci serviva a mettere insieme tutte le informazioni che trovavamo e che spiegheremo anche tra poco anche nella seconda parte con Carlo Giolo ringraziando intanto appunto Rennaro Buratti questa mia parte con la dieta di mestiere appunto la scrittrice grazie intanto per essere stata con noi grazie, grazie a voi e tra poco qui a Setti in Punto grazie a voi 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 Grazie a tutti.